Benvenuti su Mattia Giulianci, il tempo previsto per venerdì 29 giugno. Un grande evento che già avevamo messo in conto 10 giorni fa, arriva l'anticircolone nordafricano. Il suo arrivo comincia con la Sardegna e con la Sicilia, dove già le temperature massime ovviamente si porteranno di gran lunga, di sovra 30 gradi, potremmo sfiorare i 33-34 gradi. Comunque la serenità del cielo portata ovunque dall'anticircolone terrà lontani i temporali, ma farà sì che le temperature massime risalgano un po' su quasi tutta l'Italia, senza portarsi su valori eccessivi, ma insomma tra i 29 e i 31 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.